La mia contentezza di essere venuto oggi a Napoli, 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 una città nella quale naturalmente è molto difficile poter ritornare e poter ritrovare tutte le occasioni per poter difendere la città nella sua difficile vita. Noi che siamo andati via dalla città e siamo un gruppo perché assieme a Peppino Patroni Milizzi che non c'è più o Antonio Ghirelli che anche non c'è più, però insomma con Raffaele La Capria abbiamo molto lavorato per ricordare Napoli e per farla amare. Non lo so se ci siamo riusciti, so solamente che Napoli è una città che merita continuamente di essere raccontata nel bene e nel male. Grazie a tutti! Grazie a tutti!